Dati contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Salve mio caro, tu non sai chi sono, ma io ti conosco, sono uno dei tre demoni che ti sono stati assegnati alla nascita. Vedi, alcune persone in questo mondo sono destinate alla grandezza, destinate a vivere una vita felice e appagante. Tuttemo, non sia di quelle, ed è nostro compito assicurarcene. Chi siamo noi? Oh ma certo, che maleducato! Permettetemi di presentarci. Vergogna è mio fratello minore, il demone che sta sulla tua spalla sinistra. Ti dice che sei un mostro, che i tuoi pensieri non sono normali, che non ti adatterai mai. Ti sussurrò nelle orecchie quando tua madre ti trovò da piccolo a giocare da solo. Ti fa odiare te stesso. Paura si trova sulla tua spalla destra. Lui è mio fratello maggiore, vecchio come la vita stessa. Riempie ogni angolo oscuro di mostri. Trasforma ogni estraneo nelle strade buie in un assassino. Ti impedisce di dire alla tua cotta come ti senti. Ti dice che è meglio non provare, cosicché le persone non possono vederti fallire. Ti fa costruire la tua stessa prigione. Chi sono io allora? Sono il peggiore dei tuoi demoni. Ma tu mi vedi come un amico. Ti rivolgi a me quando non hai nient'altro. Perché vivo nel tuo cuore. Io sono colui che ti costringe a sopportare. Colui che prolunga il tuo tormento. Cordiali saluti. Speranza. 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 Speranza.